Esiste la gelosia tra cani? Assolutamente no, non esiste. Qui con me ci sono due maschi, Morfeo e Neo. E non sono gelosi l'uno dell'altro, se io accarezzo uno, l'altro se ne sta di tranquillo. Ma la stessa cosa potrebbe succedere con una persona, se io accarezzo, se io mi voglio abbracciare una persona, una mia compagna o un amico, i miei cani non sono gelosi, perché non esiste la gelosia nei cani. Esiste solo il cane educato o il cane maleducato. Perché non esiste la gelosia nei cani? Perché il cane non è un essere umano, non prova le stesse emozioni come le proviamo noi e quello che fa è semplicemente chiedere attenzione. E quello che fa lo fa perché ha un suo modo di ragionare e di rapportarsi con gli esseri umani e con i suoi siti. Per cui no, la gelosia non esiste se un cane abbaia mentre tu stai facendo qualcosa non è gelosia, se il cane abbaia o ringhia o ti morde mentre tu stai accalzando un altro cane o cerca di morder l'altro cane non è gelosia, ma è semplicemente maleducazione. E la maleducazione la puoi sconfiggere come? Educando il cane nel modo corretto, rispettando la sua psicologia e la sua comunicazione canina e soddisfando i suoi bisogni essenziali. Questa è l'unica cosa che tu puoi fare per poter rendere il tuo cane sereno e felice. E ricorda che i cani non sono gelosi.